Ci sarà anche un po' di crotone ai campionati mondiali di Muay Thai che si terranno a Cancun, in Messico, dal 10 al 19 maggio. Antonio Albo, fighter pitagorico, è il giovane ma già pluriaffermato atleta della Unuman Contest che si sta preparando a rappresentare i colori dell'Italia in terra messicana. Fervono i preparativi per questo importante appuntamento sportivo. Antonio infatti si sta dividendo tra la Calabria e la Puglia dove sta svolgendo delle sessioni mirate d'allenamento. È una sfida, è una sfida che rincorriamo da anni e speriamo di appunto dare il meglio, portare la medaglia a casa. Come sta andando la preparazione? Alla grande, la preparazione continua, siamo in taglio del peso, stiamo preparando gli ultimi giorni per fare anche appunto la prova del peso e siamo un po' fiacchi ma è questo l'allenamento che ci serve. Qualche gesto scaramantico? No, 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 non sono scaramantico, non credo appunto in queste cose. Previsioni non se ne fanno, si vedrà poi lì il da farsi. Tutti i miei avversari li conosco perché conosco il loro valore e sarà battaglia. Giuseppe